Un buongiorno a tutti, bentornati. Episodio numero 26 del corso di PHP. Oggi parliamo delle classi astratte. Che cos'è una classe astratta? L'override dell'abstract method. Regole dell'override è la cosa più importante. Nel prossimo episodio vedremo le interfacce, quindi stesso discorso, ma la differenza anche tra classi astratte e interfacce. Vedremo. Per ora ci limitiamo solo alla classe astratta. Allora, riprendiamo il nostro esempio di prima. Abbiamo la persona e abbiamo l'insegnante, che estende persona. Così come abbiamo l'insegnante noi potremmo avere studenti, nel caso fosse un'applicazione scolastica, oppure nel caso fosse un insieme di professioni potremmo avere chissà quante altre professioni specifiche. Resta il fatto che la persona, l'ho detto più e più volte, è una rappresentazione programmatica di un concetto astratto, perché in sé la persona siamo tutti, proprio per il fatto che siamo tutti persone, ma in realtà siamo tutti diversi, cioè abbiamo tutti delle classi specifiche insegnante, studente, eccetera, rende questa una classe astratta. Quindi ho mantenuto questo esempio per farvelo capire. Un altro esempio potrebbe essere, pensate, classe astratta macchina, ok, con classi specifiche, class Volvo extend macchina, class Volkswagen extend macchina, class Ferrari extend macchina, e ognuna poi avrà eventualmente dei sotto degli oggetti, con Ferrari 1, Ferrari 2, Volkswagen 1, dove dentro hanno dei modelli a parte, ok? Quindi potrebbe essere che la classe astratta è la macchina, è un concetto astratto. Le classi figlie sono delle marche effettive, gli oggetti, le istanze dell'oggetto, per esempio Ferrari, altro non sono che dei modelli specifici di Ferrari, ok? Spero che magari l'esempio macchina possa avervi aiutato meglio a capire la suddivisione, appunto, macchina, marca e modello. Restiamo però con persona che è molto più semplice, quindi come facciamo, più che altro mi permette di prendere questo esempio e trasformarlo in astratto. Come trasformiamo una classe astratta? Quindi presupponendo che noi vogliamo avere una classe astratta, quindi vogliamo avere una classe che semplicemente fa da base per tutto ciò che andiamo a fare, ok? E andandola a creare astratta, andando proprio a scrivere abstract, ci permette di implementare dei metodi, scusatemi, ecco qua, ci permette di implementare dei metodi, oltre a quelli che noi facciamo reeditare, ma potremmo andare a fare dei metodi astratti, ok? Facciamo così. Dei metodi astratti. Che cosa voglio dire? Dei metodi astratti, vede che ci dà errore, sono dei metodi che noi andiamo semplicemente a dire che devono esistere, ok? Noi non andiamo a definire come una persona saluta in questo caso, ma vogliamo semplicemente andare a dire, guarda, tutte le classi che derivano da persona devono salutare, a proprio modo, ma devono farlo, ok? Possiamo interpretarla così. Quindi, vedete che qua c'è l'errore, noi non possiamo avere un, noi non possiamo avere body not allowed, quindi non c'è un body, perché semplicemente andiamo solo a dichiarare questa funzione, senza definirla, vedete che così non ci dà problemi. Qua abbiamo un problema invece adesso, fatemi far così, ecco, qua abbiamo un problema, ovvero, insegnante does not implement method saluta. Quando tu hai una, quando voi avete una classe figlia, che estende una classe astratta, che ha un metodo, o dei metodi astratti, abbiamo l'obbligo, l'obbligo di implementare il metodo, ok? E quindi fare l'overriding. Perché abbiamo l'obbligo? Perché voi non potete salutare un insegnante in giro, e questa persona non vi sa salutare, ok? Questo è l'esempio, la metafora che vi potrei fare. Quindi questo insegnante deve potervi, è d'obbligo che questa persona saluti, non può non salutarvi, essendo una persona, se fosse un cane, non c'è alcun problema, ma è un insegnante che è una persona, la persona, ogni persona ha la capacità di salutare, come dipende dalla propria professione. Quindi, noi andiamo qua, e facciamo function, saluta, usiamo lo stesso nome, le regole sono le seguenti, dobbiamo avere lo stesso nome, uguali o minori restrizioni d'accesso, il che vuol dire che se è protected, può essere protected e public, se è private, può essere, vedete, sono minori restrizioni d'accesso, quindi può essere o la stessa restrizione, oppure minori. Se abbiamo public, può essere solo public, se abbiamo protected, può essere protected e public, se abbiamo private, può essere protected o public. E soprattutto, stessi argomenti minimi. Quindi andiamo a fare un cambio, qui repentino in saluta, e andiamo a mettere che non interessa, da il nome, virgola, il cognome, ok? Quindi in questo caso, facciamo saluta così, function saluta, quindi vedete che ci dà errore, perché dobbiamo avere gli stessi parametri, ok? Quindi, abbiamo nome e cognome, dobbiamo per forza andare a prendere nome e cognome, quello che possiamo andare a fare, è aggiungere dei parametri opzionali, ok? Quindi la cosa che possiamo fare, se io metto dollaro materia, vedete che ci dà errore, ma se io metto dollaro materia opzionale, in questo caso metto il default, e come default mettiamo storia, vedete che non ci dà più problemi, quindi l'importante è che siano obbligatori solo questi due, e questo sia opzionale. Questo è fondamentale, quindi stesso nome, uguale o minore restrizione, stessi parametri obbligatori, quanti parametri volete, seppur che siano opzionali. Facendo così, noi possiamo andare a fare eco, buongiorno, sono, dollaro nome, dollaro cognome, virgola, insegno, dollaro materia. E fin qua, siamo a posto, giusto? Se non fosse chiesto, dobbiamo chiamarla. Quindi andiamo a implementare i parametri, dollaro insegnante, nome, dollaro insegnante 1, cognome, virgola, dollaro insegnante 1, materia. Salviamo, andiamo a vedere. Ok, buongiorno, sono Anna Rossi, insegno storia. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo definito una classe astratta, perché ha un metodo astratto. E ben detto, questo metodo lo devono avere tutte le mie classi figlie, ok? Io non vi specifico cosa dovete fare, dovete semplicemente salutare. Fate quello che volete. L'insegnante saluta a suo modo, buongiorno, sono nome e cognome, insegno la materia, mi raccomando che il parametro deve essere opzionale su tutti i parametri aggiuntivi. Dopodiché andiamo a fare saluta, visto che abbiamo fatto l'override, e andiamo a mettere il nome, il cognome e la materia, se la vogliamo. Molto semplice, questo è come definire una classe astratta. Nel prossimo video andremo a vedere le interfacce, e andremo a fare la comparazione del perché quando conviene usare classe astratte o interfacce. È un argomento veramente, veramente complesso. Se non avete capito questo video, mi scuso, non è facile da spiegare, e stessa cosa potrà succedere per le interfacce. Sono proprio due argomenti che non sono mai riuscito a spiegare a nessuno. Li ho capiti io, per miracolo, ma non riesco a spiegarli. Quindi se avete problemi, c'è sempre della documentazione a fare riferimento, io mi scuso nel caso. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!